vai allora fammi andare al coso qua che fa già me che a pensarci bene non c'ho neanche un coso bono bono per il colo per cui mi sei bene vai 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 che va da me? non ho capito molto bene c'è gente! passiamo tornare nel multiplayer? no! gioia di nuovo tanto fa da solo gioia di nuovo ci fa pure riflettere sulle nostre io voglio sapere una cosa perchè tu hai fatto lì 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 sta lì è lì è lì è lì oh ma se lì è lì eh ho fatto ok al centro centro destra e tu eri girato dall'altra parte ti dovevo dire centro sinistra se tu mi dici destra vuol dire destra io stavo mirando destra infatti infatti il palo ha detto è lì pietro è lì è lì pietro è lì pietro è di te dico pietro pietro è lì è lì pietro di te è lì pietro è di te questo sommato è andato bene su di questo sommato è andato bene su di Io te lo dico alle 10 io stacco Ok Senti io a quella lì se mi chiede se ho studiato qualcosa io ho detto ho studiato però altra roba Madonna Ma tu c'hai il drogassale di che domani? Di nulla E allora? Sì ma sai come dicono eh ma ti ricordi qualcosa dell'anno scorso? Io C'è Ma è ora che mi ci fa pensare Sì Sì come si chiamava Ma sì lui Cosa Cioè sì 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 assolutamente sì Poi Che belle le interrogazioni poi fatte così vero eh? Bellissime Mi chiedo dove sono i nemici però Il divertimento è finito si va nella zona di guerra Attenzione Si Si Mi chiedo Perlei Oh Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedimento Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo W